Il lavoro è nato un po' per caso, la commissione, io lavoro per tanti giornali, però nessuno aveva pensato di fare questi ritratti che sono nati da una mia idea, da una mia volontà di capire realmente, questo nel marzo scorso, che cosa fosse la malattia che stavamo affrontando. È stata una sorpresa capire e vedere la partecipazione degli stessi medici e infermieri e il risultato è stato ancora più sorprendente perché poi queste immagini, fisiologicamente, sono andate nel mondo dell'editoria che è il mio primo mondo di riferimento. È ancora più sorprendente capire che queste immagini poi potevano diventare e sono diventate uno strumento per delle grandi donazioni da parte di aziende multinazionali, però insomma che hanno fatto donazioni a ospedali di tutto il mondo per 153 milioni di euro, per cui insomma sono cifre importanti. Molto spesso ho pensato che invece la fotografia non potesse cambiare il mondo come io immaginavo e sognavo sin da ragazzo. Poche volte nella mia carriera mi è capitato di capire e vedere che invece l'immagine, una testimonianza, diciamo fotografica o scritta che sia, avesse la forza realmente di cambiare le cose. In questo caso è andato così, pertanto sono molto contento. Il lavoro e gli scatti realizzati le sono valsi il titolo di fotografo dell'anno per il 2020? Sì, quello è uno dei premi, la campagna ha ricevuto tantissimi premi a livello mondiale, tanto che è stata poi premiata anche dall'Associazione per la pubblicità americana come la campagna più premiata al mondo. Beh, sì, insomma, è un motivo di orgoglio, ma credo che poi quel senso delle immagini possa essere altro anche. Ci sono diversi momenti che ovviamente non dimenticherò mai, perché sempre quando in qualche modo si attraversa la storia, si metti i piedi nella storia, accadono cose che in qualche modo sentiamo sulla pelle e ci segnano il cuore e la memoria. Un messaggio che mi porto dentro è stato sicuramente il fatto che dalla mia città, io sono nato a Pesaro, sono stato lontano per tanti anni ed ero appena tornato a vivere a Pesaro, la mia città abbia saputo in qualche modo regalarmi e regalare forse al mondo un'immagine di sé che portava il messaggio dell'Unione, cioè i medici di Pesaro sono stati considerati e sono uguali a quelli di Toronto come a quelli di Shanghai. e questa è la ragione per cui le immagini sono state accolte così bene in tutti i paesi del mondo, ma appunto si portano anche un messaggio di unità. Siamo tutti uguali, siamo tutti sulla stessa barca e non c'è distinzione di alcun genere.